Rivolta all'inclusione e rivolta all'attenzione al reddito e al merito, quindi non lasciare indietro nessuno ma anche valorizzare i talenti. Questo è un obiettivo dell'Università di Termo, quindi siamo intervenuti sui vari regolamenti per dare anche a chi ha un reddito alto possibilità di esenzioni sulla tassazione se consegue un certo numero di crediti oppure una certa media. La possibilità di iscriversi a costi notevolmente ridotti per i nostri laureati triennali proprio per consentire un percorso di filiera. Manteniamo la notax area a 24 mila euro, quindi 2 mila euro superiori rispetto all'Isee fissato dal governo. Inclusione, inclusione ovviamente abbiamo 175 iscritti fino a quest'anno accademico, studenti disabili, consolidiamo il progetto Unite Include, un progetto che prevede l'iscrizione di studenti che non hanno il diploma ma hanno conseguito l'attestato di frequenza e possiamo consolidare questo progetto quindi con altri 8 iscritti grazie a un intervento della regione, quindi un ringraziamento particolare dall'assessore Quaresimale che ci consentirà poi di sostenere dei tutor dedicati. Spero che per la fine del 2024, quindi di ricordarmi, tenuto conto che il mio mandato finirà il 31 ottobre 2024, che si possa partire almeno con una parte della Casa dello Studente. Post pandemia come stanno andando le immatricolazioni? Noi come immatricolazioni teniamo con leggeri aumenti. Quest'anno pensiamo con la nuova offerta formativa di incrementare ulteriormente. C'è un problema di abbandoni nell'università italiana che si è accentuato con il post pandemia. Matricole più 3% e quest'anno pensiamo di andare ben oltre, proprio puntando sulla, voglio ribadire questo concetto, sull'unicità. E voglio ribadire anche un altro concetto, perché iscriversi all'Università di Teramo? Perché all'Università di Teramo, chi ha un reddito basso o ha un livello di merito elevato, non paga le tasse o paga meno. Senza dimenticare i costi della città di Teramo. Questi dati sono già noti, ma ricordiamolo che vivere e mangiare, tra virgolette, a Teramo costa circa la metà rispetto alla media delle città medio-grandi del centro, del nord e anche del sud.